La parola che mi interessa è la parola limite, perché noi ne facciamo un uso abbondante di questa parola. Diciamo spessissimo delle cose, ho raggiunto il limite, non c'è più limite, mi sento al limite, insomma ne facciamo un uso straordinario. Io proporrei di riflettere sulla questione, di immaginare ad esempio essendo il limite qualcosa divisibile o invisibile, per esempio la pelle del corpo può essere intesa come un limite, il corpo stesso o invisibile può essere qualcosa che passa tra un me e un te e fa sì che vengano differenziati un me da un te, potremmo con un gioco di parole trasformare il limite di un'esperienza in esperienza del limite. Ho pensato che potremmo figurarci il limite come una linea e quindi una molteplicità di linee, fanno un disegno tradizionalmente però nel disegno la linea a valore di contorno definisce una forma. In questo senso dovremmo stare su quel disegno, abitarlo perché innanzitutto è il nostro disegno, perché le linee che lo formano sono i nostri limiti e quindi ci riguarda e poi perché appunto è un'esperienza di approfondimento e di consapevolezza di quello che è l'essenziale in cui si muove la nostra esistenza. I limiti sono delle fratture, fratture che passano nel mondo, all'interno delle persone, fratture tra le relazioni, sono linee appunto in questo senso, anche l'esperienza che stiamo facendo di questa intervista, insomma mi sembra che raggiunga un limite.